Un saluto a tutti da parte del team Vision Forex e dal sottoscritto Francesco Cerullo. Andiamo quest'oggi a dare un'occhiata al future sul crude oil, quindi parliamo di petrolio. Perché questo? Io ovviamente vi presento un grafico settimanale abbastanza direi eloquente e andiamo a fare anche in diretta un'analisi velocissima. Perché questo? Perché vedete come dal 2016, dai minimi di febbraio, praticamente di un anno fa, ci sia stata una sorta di trend crescente, nel senso che questo secondo minimo, questo terzo minimo che sto prendendo in considerazione sono effettivamente minimi crescenti. Ora andare a tracciare delle trend line qua, per esempio sulla prima, potrebbe far subito saltare all'occhio che la scorsa settimana, come vedete dalla candela bearish, è piuttosto importante, ci sia appunto un mercato orso sul petrolio o quantomeno ci sia stata un'interruzione di questi minimi crescenti, ma vi voglio far notare anche che se invece sposto il collegamento appunto tra le trend line e fra i punti appunto di congiungimento della stessa, siamo praticamente durante questa settimana appunto a cavallo di di questa stessa trend line su quotazione in area 48, 48 e 30. Questo era un attimino un esame diciamo preso alla lontana, ma andiamo un pochino più ad analizzare da vicino il tutto. Vedete come nell'ultime settimane, dai primi di dicembre, il grado addormentato, mi piace chiamarlo così, aveva portato praticamente una lateralizzazione e un'indecisione molto pronunciata fra area 51 e 50 circa e 48, scusate, 54 e 50, 55 dollari a barile. Una volta poi rotta appunto a ribasso questa lateralità durante la scorsa settimana avevamo avuto direzionalità piuttosto pronunciata. Dove si sono fermate le quotazioni? Si sono fermate in area 47 e 50 circa. Andiamo a cercare, eccolo qua, io ho preso anche questi minimi della settimana del 28 novembre come riferimento e vedete proprio sono stati addirittura testati durante questa settimana. Allora, che cosa possiamo quindi dedurre e provare a progettare sul petrolio? Direi che già questa settimana diventa decisiva, nel senso che il test a 47 dollari è stato fatto, c'è stato un po' di freno alle vendite, ci sono alcuni probabili compratori in quest'area, ma ancora ovviamente dopo questa bearish non ci sono e non si sono palesati questa settimana segnali di buy importanti. Allora, ovviamente anche per la prossima settimana l'area dei 47 dollari sarà il supporto fondamentale per poter provare a ipotizzare scenari di tenuta da parte delle quotazioni. Soprattutto andrei a cercare possibili ritorni in area 49, 50, 50 dollari. Quindi, visto che anche 50 dollari sono una soia abbastanza psicologica, potrebbe questa, una volta recuperata al close non solo settimanale, ma anche su un time frame più piccolino come può essere il daily, potrebbe riportare un pochino di acquisti. Acquisti che successivamente ovviamente avrebbero target 51,50 prima e un target intermedio, lo andrei a cercare, eccolo qua, su questi minimi in area 52,60 circa. Dall'altra parte ovviamente scenario di pericolosità e quindi di nuovo impulso di bassista con close e allunghi anche su chiusure giornaliere al di sotto dei 47 dollari. È tutto, mi sono allungato come sempre, mi piace parlare. Vi auguro un buonissimo fine settimana. Ci ritroviamo la prossima, lunedì, come sempre con i vari appuntamenti e i vari contributi miei e del team di John Forex. Un saluto a tutti.